che i legna, ciao i legna. Allora, intanto dobbiamo dire questo, che quando interagiamo con una persona dobbiamo sempre capire che abbiamo davanti, quindi se riusciamo ad agire da un punto di vista diretto, diciamo offline, così chiamato, dovremo nella prima fase, diciamo, leggere il suo linguaggio del corpo, perché leggendo il suo linguaggio del corpo e imparando a riconoscere rapidamente i segni, i segnali che le persone emettono quando stanno parlando, attraverso la gestualità, attraverso i comportamenti anche, noi riusciamo a capire anche che abbiamo davanti. Esistono diversi tipi di linguaggi del corpo, di linguaggio del corpo, alcune forme, diciamo, sono più difficili a cogliere, sono delle microespressioni molto veloci, velocissime. Altre espressioni sono dei segnali non verbali che noi possiamo cogliere, ma noi possiamo cogliere, ad esempio, anche l'aggressività di una persona dal linguaggio del corpo, aggressività espressa da se stesso verso se stesso o da se stesso verso gli altri. Possiamo cogliere, ad esempio, attraverso il linguaggio del corpo, anche la possessività di una persona. Ad esempio, questo possono farlo, io non potrei farlo perché non essendo dotato di capelli, un saluto alla nostra Green Apple, grande Green, io non essendo dotato di capelli, diciamo, non ho questa facoltà di poterlo fare. Ma se tu parli con una donna, ad esempio, e questa, io parlo con lei, e vedo che si attorciglia i capelli in questo modo, mentre mi guarda negli occhi, io fuggo a 2000 all'ora perché questo è un segnale che è un desiderio di morboso possesso. Quindi, ma fuggo, se una persona, ecco, se una persona ti fa sto segnale, ad esempio, se una persona ti fa questo segnale e si attorciglia i capelli in questo modo, fa questo segnale qua, io fuggo per un motivo molto semplice, perché anche fuggendo me la tiro dietro. Perché ovviamente una persona che ha un desiderio di morboso possesso, cercherà in qualche modo di coinvolgerti, cercherà in qualche modo di, cercherà in qualche modo, cioè è una persona che in qualche modo vuole, come possiamo dire, è stimolata dal desiderio, eccessivo anche, però questo è un dato, no? Quindi, ed è fondamentalmente, però fa parte di un segno di aggressività, è un segnale, diciamo, di comunque persone possessive. Mi viene da grattare, parlando di persone possessive. Oppure, se parlando con una persona, noto che questa spesso si gratta dietro la schiena, dietro la nuca, questo rappresenta una forte frustrazione, no? Per cui, anche qua, diciamo che bisogna valutare se vale la pena sedurre o conquistare questa persona, oppure se non ne vale la pena. Poi ci sono, diciamo, anche altri segnali, no? Che noi possiamo cogliere dal linguaggio non verbale per capire cosa devo fare. Se, ad esempio, noto che una persona costantemente sta in questa posizione per dire, mi sta dichiarando, diciamo, che lei vive, lei vive un forte conflitto materno e allora non sarà tratta da persone che si comporteranno in modo materno nei suoi confronti, perché già lei vuole essere materna e tenderà a coinvolgersi, probabilmente, con persone più direttive che le daranno le dritte. Se, invece, incontro una persona che mi gesticola sempre in questo modo, quindi mi denota un forte, una salute abeticotis, un forte conflitto paterno, in questo caso, per cui, probabilmente, io mi comporterò in modo più accogliente, morbido, protettivo. Ecco, questo a cosa serve? Serve a darle il pane emotivo che le persone gradiscono da questo punto di vista, no? Quindi questo è un altro fattore che mi dice, molto importante, che mi dice il linguaggio non verbale è quanto una persona è stimolata dal desiderio e quanto una persona è stimolata dal possesso, ad esempio. Se io avvicinandomi, variando la prossemica, questo bisogna un po' allenarsi a fare, non è così semplice, ma bisogna essere un po' allenati, deve essere fatto in modo sciolto, mentre tu parli con una persona ponendoti a 70-80 cm di distanza e ti avvicini in questo modo, se noti che dall'altra parte si allontana, beh, hai capito che questa persona gradisce, diciamo, chi fugge, non chi insegue. Quindi noi riusciamo a capire anche, saluta Roxy, riusciamo a capire anche dal linguaggio non verbale se una persona va stimolata, diciamo così, amplificando fortemente il desiderio, quindi negando fortemente il possesso e quindi la facciamo desiderare, oppure se bisogna prima, come dire, stimolare e poi fuggire, quindi però dare degli stimoli, dei desideri un po' più bassi. Desiderare bisogna fare desiderare a tutti. Ma io dal linguaggio non verbale posso capire di più, posso capire se una persona è iperlogico-emotiva, a seconda di come reagisce ai miei spostamenti spaziali nello spazio, spostamenti spaziali, miei spostamenti nello spazio. E riesco a capire tante cose, quindi riesco a farmi un quadro abbastanza preciso, diciamo, su cosa fare. Tra l'altro anche, dicevo, nei segnali di rabbia talvolta riesco a capire anche i segnali di rabbia espressi da se stesso verso se stessi, quindi le persone che tendono a vivere i sensi di colpa. Ma perché è importante capire se una persona tende a vivere i sensi di colpa? Beh, semplicemente, perché se poi li amplifico, come dire, otterrò dei risultati, no? Vado a stimolare l'emotività. Ad esempio, persone che fanno dei piccoli gesti su se stessi, tipo ad esempio la tricotillomania, no? Chi strapparsi, anch'io, a fuori di tricotillomania sono rimasto senza capelli. Cioè persone che tendono a strapparsi i peli, oppure anche a strapparsi le pellicine, a infliggersi piccole, come dire, piccoli danni, no? Non è che si piantano un coltello nel cuore, fanno hariri, ma piccole cose e probabilmente hanno un po' di rabbia compressa da se stessi verso se stessi. Quindi in questo caso mi conviene, diciamo, se voglio, produrre, diciamo, rapidamente tensione, andare a stimolare la rabbia. D'altra parte noi abbiamo due tipologie di energie, al nostro interno abbiamo Eros e Thanatos, che sono l'energia di vita, diciamo, Eros e Thanatos, che è l'energia di morte. Servono entrambe, perché quando io voglio decoinvolgermi da qualcuno, dovrò usare Thanatos. E se io divento padrone della mia Thanatos, riesco a decoinvolgermi. Se io voglio coinvolgermi, devo usare Eros, l'energia del coinvolgimento. E viceversa, se voglio coinvolgere una persona, devo amplificare l'Eros. Ma, in alcuni casi, come ad esempio le persone che hanno rabbia, gliela posso anche amplificare, per poi fargliela scaricare diversamente. Insomma, ci sono tutta una serie di strategie che noi possiamo mettere in atto se vogliamo cogliere quanto una persona è coinvolta con noi. Ovviamente, diciamo, ci sono altri segnali, di cui ad esempio parlo nell'altro corso che faccio sul canale Massimo Terramasco, che sono i micro segnali di... ma sono molto complicati, bisogna... insomma, vanno studiati, insomma, i micro segnali che ci danno tutte le principali emozioni, no? E poi vedremo anche tutte le emozioni derivate. capire se una persona sta vivendo un evento che lo sorprende, un evento che le genera paura, un evento che le genera disgusto, un evento che le genera rabbia, un evento che le genera felicità. Insomma, ci sono tutta una serie di segnali che... oppure che le genera tristezza, di emozioni che noi possiamo cogliere. Oppure che le genera disprezzo, perché se una persona ti manifesta disprezzo, il disprezzo sarebbe una forma di disgusto a livello sociale, beh, bisogna stare molto attenti, no? Quindi comunque, chi sa leggere, chi diventa, tra virgolette, un analista comportamentale, potremmo definirlo, riesce a cogliere tutta una serie di segnali che fanno capire quali sono le caratteristiche peculiari di quella persona e quindi quali sono i comportamenti migliori per la strategia micidiale, diciamo, per fargli vivere la mancanza. Perché noi dobbiamo tenere conto che le strategie di seduzione canned o canned, non so come la nostra Green Apple, che è inglese, ce lo può dire se la pronuncia corretta è canned, canned o canned, sarebbe in scatolate, canned, le chiamano canned, non so adesso se è canned o canned, 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 perché la D non la pronuncia, canned, canned, vabbè, insomma, in scatolate. Quelle sono per, come dire, strategie di seduzione per i catramisti e le sciampiste della seduzione, non per i seduttori, cioè i catramisti e la sciampista che vanno a fare il corso di seduzione potranno imparare qualche strategia canned, canned, adesso non so se c'è ancora Green Apple, perché sono strategie di seduzione, diciamo, raffazzonate, no, che vanno bene un po' per tutti. Noi dobbiamo invece diventare cultori della seduzione e quindi utilizzare le, diciamo, le strategie migliori. Tra l'altro, come dire, ci sono anche dei gesti, altri gesti che ci danno molte informazioni per capire se dobbiamo comportarci in modo passivo o attivo nei confronti di questa persona. Cioè, questa persona vuole essere dominata o vuole essere una persona dominante? Questo è un altro modo per capire can't, ah, can't, lei non si sente, can't, 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 can't. Non can't, 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 can't. Vabbè, insomma, si pronuncia così, in scatolate. Can't, 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 can't. Vabbè, comunque, in scatolate. E, dicevo, noi possiamo anche capire, sempre dal linguaggio non verbale, se una persona gradisce, nepposti, diciamo, in modo dominante o in modo dominato. Perché noi dobbiamo mettere il ruolo comportamentale, cioè il ruolo complementare. Se la persona è una persona che, diciamo, la sua parte emotiva vuole dominare, sicuramente la sua parte logica vuole essere dominante e viceversa. Can't, ah, ok, can't. can't, can't. Vabbè, can't, ok, can't. In scatolate, can't. E questo è un altro dato importante, no? Questo possiamo capirlo dalla stretta di mano, un po' da tanti fattori. Perché tenete presente che quello che la logica afferma la parte emotiva nega. Quindi è per questo che molte persone che sono dominanti a livello logico vogliono essere dominate a livello analogico. Cioè, quello che è l'amministratore delegato di un'azienda poi magari va a cercare la mistress che analogicamente lo piglia frustate. Perché, diciamo, quello che la parte logica afferma, la parte emotiva nega e viceversa. Cioè, se una persona è logicamente attiva, diciamo così, tenderà a essere analogicamente passiva. quindi nei fatti poi in certe situazioni vorrà essere passivo. Chi è analogicamente passivo vorrà essere logicamente attivo. Quindi ci sono questi, queste caratteristiche che noi possiamo cogliere. E poi, ovviamente, nella seduzione non dobbiamo dimenticare lo sguardo. se una persona non ci guarda, è distratta, soprattutto se una persona guarda verso l'alto, significa che è una persona che non è coinvolta con noi in questo momento. E quindi, in questo caso, se io voglio, diciamo, stimolarla, dovrò fare una fuga molto rapida. Perché quando una persona non è ancora coinvolta, non devo stare a inseguire, devo proprio fare una retromarcia e scappare, non devo proprio prenderli in considerazione. Devo far venire nella sua testa l'idea che comunque non sono assolutamente interessato. Se invece la persona mantiene un contatto, mantiene un eye contact, mi guarda, allora posso utilizzare la, diciamo così, l'eye contact che è il contatto oculare per mandare dei segnali. Noi attraverso lo sguardo possiamo ipnotizzare, attraverso lo sguardo possiamo mandare, diciamo, dei segnali anche molto potenti. Nella seduzione ovviamente dobbiamo tenere presente anche in generale ad esempio il linguaggio di chiusura, ma ci poi di chiusura di persone che sono chiuse perché timide, perché insicure. Insomma, è veramente un mondo che noi possiamo scoprire attraverso il linguaggio non verbale. Persone che hanno carenze affettive, l'autabraccio, ci sono persone, non so se è notato ogni tanto, che non è che questo è un segnale di chiusura, ad esempio incrociare le braccia, ma stare in questo modo e sono persone che in questo modo intendo un autabraccio, mi tengo qua, come se questo è un segnale di chiusura, se io mi chiudo in questo, cioè se sono aperto e mi chiudo in questo modo è proprio chiusura verso l'alto, ma se io mi autabraccio in questo modo e sto in questa posizione, beh, significa che è una persona che ha delle forti carenze affettive, quindi devo farmi vedere, se voglio fargli sentire la mia mancanza, come un potenziale erogatore di affetto e poi allontanarmi, perché devo darti, insomma, non devo toglierti la fame, ma devo stimolarti per farti venire ancora più fame, cioè devo farti assaggiare il pasticcino, ma non farti fare una scorpacciata di pasticcini, perché altrimenti, come dire, tu sei sazzo e come se vado a pescare butto solo l'esca, il pesce va, magna, va all'ingrasso e poi se ne va, invece devo avere l'astuzia, tra virgolette, di utilizzare queste strategie comunicative che riguardano proprio come dire, il far assaggiare l'emozione che manca per poi allontanarsi. Nel momento in cui tu ti allontani, nel momento in cui tu ti allontani, diciamo, vai a, come possiamo dire, a vai a generare una forte, una forte mancanza. Solo pastura senza esca oppure buttare l'esca senza l'amo. Butto solo esche ma non butto amo e quello se ne va. Quindi nel frattempo ovviamente è molto importante sia per gli uomini che per le donne creare e costruire anche a livello invece verbale una situazione di rilassamento, una situazione di comfort perché la nostra parte verbale dobbiamo, a livello verbale dobbiamo fare quello che viene chiamato il contratto logico cioè nella seduzione fondamentalmente bisogna fare due contratti un contratto logico e un contratto analogico il contratto logico è quello che faccio io la mia parte logica io con la parte logica dell'altra persona il contratto analogico è che somministri emotività questo ovviamente è molto importante ovviamente dobbiamo tenere presente tutta una serie di fattori anche proprio a livello di diciamo capire se una persona è ansiosa o meno ci sono dei segnali che ti fanno capire che una persona può essere ansiosa e questo può essere positivo perché gli sto comunque generando emozione ad esempio persone che vivono una sudorazione persone che vivono una contrazione macellare che hanno uno sfregamento dicevo un grattamento della nuca o scarichi frequenti scarichi di tensione vuol dire che vivono comunque una diciamo una tensione molto alta capire anche ti vedo tutto sfocato e non so io ho tutto chiuso chiudiamo un po' ancora altre cose vedete bene? io sto cercando di chiudere tutte le finestre spero che si veda bene ecco quindi abbiamo tutte queste strategie che noi possiamo utilizzare che ci danno delle indicazioni problemi problemi di collegamento ah ok a volte si blocca vediamo un po' provate a riavviare ho chiuso tutte le ho chiuso tutte le finestre provate a riavviare adesso veramente sono tutte le finestre chiuse dovrebbe funzionare provate a riavviare magari quindi un'altra cosa importante che noi dobbiamo fare è capire se una persona ad esempio se una persona è più emotiva o iperlogica ci sono molti modi per capirlo ad esempio se una persona tende diciamo a guardare spesso alla sua destra è perché sta utilizzando il lato sinistro del cervello quindi le persone iperlogiche tendono prevalentemente a guardare alla propria destra le persone che tendono a guardare alla propria sinistra prevalentemente utilizzano la parte destra del cervello e quindi tendenzialmente sono persone più emotive quindi ci sono veramente tanti segnali che noi possiamo cogliere persone che quando parlano ad esempio molti maschietti non so se l'avete notato si mettono una mano proprio sul diciamo sui gioielli di famiglia lo fanno non so se avete notato molti uomini hanno questa cosa qua c'è tanti uomini non so se avete notato donne che magari un uomo mentre parla la mano se la tiene appoggiata proprio lì sul più bello diciamo così e questo significa che vive una frustrazione ma a carattere sessuale quindi dovete andare ad amplificargliela o abbiamo la nostra culti abusanti la nostra Adriana Apparatore benvenuta anche all'apparatore oggi abbiamo fatto anche una live con l'apparatore sul canale Massimo Terramasco andatele a vedere quindi se quando parli con un uomo questo ha la mano poggiata sul suo pacco diciamo sul suo pacco è perché tende a vivere problematiche di natura sessuale o come dire non sappiamo quali ma tu devi andare ad amplificare questo se invece spesso si tocca diciamo il lobo dell'orecchio la parte esterna dell'orecchio e qua le problematiche le vive le mancanze diciamo le vive le vive a livello affettivo nella prima pagina iniziata manca una i allora lo correggiamo lo correggiamo lo correggo cioè l'ho incorretto prima e sto continuando a fare errori correggo correggo grazie Vin Dreams correggiamo correggiamo ecco queste sono le strategie che ci fanno comunque grazie a Vin Dreams le strategie che ci fanno diciamo capire come gestire una situazione ecco quindi ci sono tutta una serie di cose molto interessanti ovviamente dopo la chiocciola adesso poi guardo adesso poi guardo e quindi provate a gestire queste situazioni per riuscire a sedurre per riuscire a far innamorare per riuscire a coinvolgere ecco questo è l'importante è che capiate con che avete a che fare cioè questa live ho voluto farla per dire che per far vivere una come dire una strategia per mettere in alto una strategia e fargli vivere la mancanza dovete capire che avete davanti andare ad amplificare la cosa e poi fuggire questo è l'unico modo per generare della tensione emozionale e poi e poi Grazie a tutti